Cos'è la blefaloplastica? È la chirurgia estetica dello sguardo, cioè la chirurgia estetica che tende a eliminare la pelle in eccesso sia nella palpebra superiore che nella palpebra inferiore, eventualmente cancellando anche quel brutto effetto che danno le borse di grasso, quell'effetto vecchieggiante. È un intervento tecnicamente non facilissimo, estremamente poco traumatizzante per il paziente, chiaramente in anestesia locale, tipo dentista, non c'è nessun dolore, c'è un posto operatorio un po' lividoso, avrete dei lividi per qualche giorno, 4, 5, 6 giorni, poi tutto passa, bisogna dare il tempo alla cute di distendersi regolarmente, eliminare l'eccesso di gonfiore, dopo verrà uno sguardo molto bello e accattivante e molto ringiovanito. Grazie a tutti. Grazie a tutti.